Intanto grazie per questa accoglienza, è un'accoglienza straordinaria, è un'accoglienza che rincuora, che si spinge a fare queste ultime 72 ore di campagna elettorale veramente col massimo di impegno. Ci spinge a farlo perché qui, da Casarano, noi vogliamo dire in modo molto semplice che questo è il Partito Democratico che vince e che vincerà anche a livello nazionale. E io sono contento di essere qui oggi, dopo essere stato nei giorni scorsi in quello che rappresenta secondo me il modello, il modello vincente del Partito Democratico di questo tempo così difficile, un tempo nel quale abbiamo di fronte un avversario che vince, che ha vinto fino adesso e che noi possiamo partire soltanto con questo modello. Io ero qualche giorno fa insieme a Lorenzo Dell'Ai, Presidente della provincia di Trento, a Trento. A Trento è l'unico posto d'Italia dove noi in questo anno abbiamo vinto. L'unico posto l'abbiamo vinto bene, dove abbiamo convinto e a Lorenzo ha detto che a Casarano in Puglia abbiamo deciso di scommettere su una proposta politica che è la proposta politica simile a quella di Trento.